in ti ricordi scrivi realizzi che non ti sei realizzato e che sei grande è meglio farsi o a farsi delle domande quando io 17 anni realizzato che significato aveva e per te oggi a che punto sei? ti senti realizzato? beh a 17 anni erano gli anni 17 anni non penso che non pensavo neanche al concetto cioè ero in un altro state of mind cioè penso che non ero neanche interessato alle ragazze cioè ero solo ossessionato dal mondo street quindi quindi dalle droghe leggere gli amici insomma poi in quegli anni la Milano c'era proprio una crescevo in un contesto capito che nel mio caso è stato proprio poi anche figlio di Deifi c'era questa malattia di malandrinità c'era questo fascino di questo mondo poi dopo sono arrivate le ragazze sono arrivati arrivato più fare la musica in modo più professionale il discorso del realizzarsi sai penso che sia che sia che sia molto molto personale poi vada anche a momenti cioè penso che può capitare anche a te che delle volte dici ah cazzo però che bello ho fatto queste cose altre volte ti girano i coglioni penso e dici no però no quindi io non è che soffro di bipolarismo però sono anch'io degli up and down sì se dovessi pensare ad un momento in cui ti sei sentito realizzato? ma accade spesso comunque perché cioè se penso al percorso chiaramente ti ripeto ti lo dico fa ridere che lo dico però come umiltà ti dico parlando proprio di musica rap sai penso al percorso cioè che da quegli anni aver fatto tutta la cosa con i Club Dog aver fatto queste cose sicuramente c'è qualcosa sì 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 e in quel momento sì mi sento realizzato e poi sono i momenti in cui dici anche cazzo ma cioè la gente non può scordarsi di questa cosa ma invece molte volte sembra che se lo scorda sembra che se lo scorda sì che molte cose non vengono nemmeno riconosciute no? questo però in Italia in America c'è già forse una forma di... è tutto diverso qua comunque la gente se lo scorda se lo scorda non c'è una forma di riconoscimento no sì sì è vero sì 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 sì